La benedizione di Dio Idonea per testimoniare al mondo intero cosa vuol dire essere figli di Dio è idonea per il regno dei Cieli La benedizione di Dio La benedizione di Dio La benedizione di Dio Dio, Giuseppe, accolgo te la mattina e come mia sposa con la grazia di Cristo prometto di essere, di fedele e segno della gioia di tutto nuovo, della salute della mamma e di amarti e adorarti il giorno della vita Giuseppe, hai chiesto di questo bello, il segno del mio amore e della mia verità Dio, Giuseppe, accolgo te la mattina e come mia sposa Dio, Giuseppe, accolgo te la mattina e come mia sposa Dio, Giuseppe, accolgo te la mattina e come mia sposa